we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite vedremo delle cose che stanno succedendo in game dei glitch che ci mostrano una nuova location ma parleremo anche di alcuni pesci che stanno per arrivare e di tanto altro per quello che riguarda il futuro di fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al canale 2 e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e ci riallacciamo al discorso di aquaman sono oramai due o tre video che continuo a farvi dei piccoli aggiornamenti conosciamo il nome della location conosciamo da cose composta abbiamo visto dove sarà e come sarà almeno la base abbiamo ascoltato l'audio perché vi ricordo che entrando nelle rovine ascolteremo un background musicale ma ragazzi ve la ricordate questa immagine ovviamente si è proprio la base delle rovine non è ancora pronto niente graficamente beh alcuni giocatori da ieri pomeriggio hanno questo bug grafico incredibile praticamente come vedete la mappa quando la si vede dall'alto per qualche secondo risulta completamente diversa da quella che siamo abituati a vedere e se notate la in alto dove c'è il faro in poche parole si vede la posizione della nuova location questo mi fa pensare una cosa visto che la mappa come vedete a pochissime parti formate sommerse d'acqua quindi credo che siamo quasi sul finale di season potrebbe essere un qualcosa che arriverà tra il terzo e il quarto stadio di questa season quindi una cosa molto interessante un glitch davvero curioso e finalmente sappiamo dove sarà posizionata la nuova location dedicata ad acqua man e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ve ne avevo già parlato qualche secondo fa conosciamo tutti i tre classici pesci presenti su fortnite il flopper il prelibapesce e la sardina non pesciolino quello piccolino che non ci serve a niente da qualche ora sono stati scoperti però nei file di gioco 5 nuovi pesci in lavorazione guardate qua ragazzi il primo il thermal flopper il secondo lo shield flopper abbiamo già il prelibapesce non so cosa dirvi il terzo il jelly flopper il quarto lop flopper e per finire il fire flopper è una cosa davvero curiosa e anche incredibile perché ci sono dei pesci che non capisco come possono essere utilizzati hop flopper come vedete ci dice hop rock ability se non ricordo male le hop rock erano le pietre quelle anti gravitazionali presenti nella season 4 dove c'era il grande cratere del meteorite nel primo capitolo vi ricordate le pietre salterine le chiamavamo noi ma soprattutto il thermal flopper a cosa può servire io non ne ho assolutamente idea ma potrebbero aver preso spunto da questa immagine che vi avevo già mostrato tantissimi mesi fa e che ovviamente va a riprendere un sacco di pesciolini fatti come concept beh ragazzi happy games fortani sta lavorando e sta preparando qualcosa di incredibile sui nuovi pesci e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda gli elicotteri ieri vi ho fatto vedere e in lo spezzone dove poter recuperare l'elicottero sommerso e quindi avere un veicolo extra per potervi muovere in mappa beh ragazzi arriva un tweet ufficiale invece da fortnite status che ci dice we've pushed an update to reduce chopper spawn rate in all competitive and tournaments playlist vuol dire che quando giocate i tornei o il competitivo credo che sia dentro anche l'arena in questa cosa il numero di elicotteri che vengono generati automaticamente è ridotto sensibilmente effettivamente ragazzi anche noi di pomeriggio giocando le arene abbiamo notato nei giorni precedenti come molti giocatori tendessero a rimanere in aria con gli elicotteri quindi ci sta questo aggiornamento meno casino nelle arene nei competitive meno elicotteri per tutti e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio farvi vedere un pack o comunque delle skin che sono presenti nei file di gioco ma che non sono ancora state rilasciate e hanno abbastanza come dire informazioni queste skin perché night gunner è la prima e la seconda invece è shadow archetype praticamente una versione ombre di quello che è il classico archetipo entrambe le skin arrivano con i propri backpack bellissimo il night bag ragazzi riprende un pochettino il backpack quello che ha invece la versione maschile del bombaron lucente mentre il classico dark paradigma mentre vi parlo un pochettino di queste skin ve le faccio vedere direttamente in game perché sono già presenti appunto nei file di gioco ma la cosa che non si capisce è faranno parte di un bundle a pagamento oppure arriveranno nello shop con i v bucks se devo essere sincero io credo che possano far parte di un bundle a pagamento ma se così fosse allora che senso a avere anche il bundle che vi ho fatto vedere ieri quello degli spettri dove c'è in poche parole il l'agente del caos ash e wild card in versione spettri non ne ho assolutamente idea ragazzi ma queste skin hanno un po di mistero intorno appena sapremo qualcosa ve lo dirò anche a voi andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché sbada bam abbiamo parlato nei giorni precedenti dell'arrivo del nuovo dragon dragon praticamente il nome utilizzato per un nuovo fucile a pompa in lavorazione questa immagine che vi sto facendo vedere io la prenderei un pochettino con le pinze sinceramente non mi sento di dirvi che sia un'immagine ufficiale ma invece voglio farvi vedere dei nuovi aggiornamenti sulle statistiche di quest'arma questi invece sono presenti nei file di gioco e come vedete body shot da 70 a 140 wow headshot da 83 a 175 reload time tempo di ricarica 4,2 secondi 4 colpi nel caricatore e spara 4 pallini a colpo con un danno a splash quindi un danno a zona in poche parole io non so quando abbiano intenzione di inserire questa nuova arma nel gioco per adesso appunto non è presente nessuna immagine ma sappiamo che settimana prossima arriverà la patch 13.20 quindi potremmo beccarci delle sorprese inattese e dovremmo avere l'ultimo argomento di oggi ed eccolo qua ragazzi è una cosa veramente curiosa e allo stesso tempo una figata avete presente le domande nei questionari che ogni tanto vi potrebbero arrivare mentre switchate da una partita all'altra beh epic games ha inserito la domanda che chiede ai giocatori quali supereroi di marvel o dc comics conoscete di più è una cosa davvero interessante perché vorrebbe dire o meglio si ipotizza che possa arrivare nel futuro una nuova collaborazione con marvel o con dc comics collaborazioni tra l'altro bellissime ci ricordiamo tutti quando hanno fatto la collaborazione con gli avengers abbiamo visto anche quando hanno fatto la collaborazione con batman non scannatemi ma io non capisco niente né di marvel né di dc comics quindi penso che però batman centri anche lui in questa collaborazione e insomma ci si aspetta qualcosa in futuro di nuovo di tanto tanto figo insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao e adesso c'è chi si lamenta che ci sono 45 secondi di black screen ma nei 45 secondi di ascoltare la mia voce io ci arrivo a 10.03 e sai perché le pubblicità le metto se ma youtube ne le manda no cosa ci farò mai ho il bo è veramente dura 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 tirare fino alla fine è veramente dura dura arrivare a 10.03 no 10.02 no 10.01 ma 10.03 donna cavallo e re